Una buona giornata da Fabio Pizzula. Anche oggi 25 maggio un'occhiata ai giornali per i fatti lombardi. Domina il caso Rizzi. Partiamo dal Corsera. Rizzi patteggia e si dimette dalla regione. Lascio la politica agli arresti per corruzione. Il leghista Fabio Rizzi, ex presidente della Commissione Sanità, annuncia le sue dimissioni con una lettera al presidente Cattaneo in cui parla anche della sua nuova vita oltre la politica. Stesso tema per la Repubblica. Rizzi dal carcere. Mi dimetto, patteggio e lascio la politica. Più spazio sul giornale. Rizzi patteggia e dice addio alla politica. L'ex leghista, assieme alle dimissioni, scrive una lettera dal carcere indirizzata al presidente del Consiglio regionale Cattaneo. Stesso argomento sul giorno. Rizzi si dimette dal Pirellone, va verso il patteggiamento. Lettera alla regione. Mollo la politica. Perderà lo stipendio. Beh, se si dimette dal consigliere ci mancherebbe anche altro. Anche Libero Milano si occupa di questa tematica con il leghista Fabio Rizzi che si dimette dal Pirellone e dal Consiglio regionale. Quindi viene confermato il suo sostituto l'attuale vice sindaco di Busto Arsizio Reguzzone, il quale deve anche decidere adesso se rimanere vice sindaco o rimanere consigliere regionale perché i due ruoli sono incompatibili. La prealpina sullo stesso argomento. Inchiesta sanità. Rizzi pronto a patteggiare. Si dimette dalla regione. Grande spazio anche sulla provincia di Varese. Rizzi si dimette dal Consiglio regionale. Via dalla politica. Inizio un'altra vita. L'ex presidente Lombard della sanità scrive a Cattaneo e la provincia di Varese riporta anche l'intera lettera che vedete qui fotocopiata praticamente riportata sul quotidiano scritta da Rizzi a Cattaneo. A proposito di carcere il Corriere della Sera propone un'inchiesta dietro le sbarre. Celle sovraffollate, suicidi e mancanza di personale. Carcere Lombardi al collasso. Nel 2016 torna a crescere il numero dei detenuti. Metà sono stranieri. 8.000 recluse negli istituti della regione. 2.000 oltre la capienza. Un po' allarmistico ma realistico questo articolo del Corriere della Sera anche perché tutta sommato le condizioni nelle carcere negli ultimi due anni in Lombardia sono migliorate. Chiaro i numeri parlano ancora di sovraffollamento. E poi ultima notizia dal giornale Milano. Accordo il Polo Enervit di Erba in partnership con la regione. Sport e nuova alimentazione. Stop glutine e olio di palma. Il centro Enervit di Erba produrrà integratori naturali e darà lavoro a 50 dipendenti. Maroni risorse ben spese. Il presidente Sorbini è la nostra nuova sfida. È tutto anche per oggi. Grazie da Fabio Pizzu. Ci sentiamo per la segna stampa domani.